Gli esami di Stato del 2020 se li ricorderanno tutti, docenti, dirigenti scolastici, studenti. È la prima volta, infatti, dopo più di 70 anni, che gli esami si svolgono in un clima di emergenza. Il caso precedente risale alla metà degli anni 40, quando l'Italia era in guerra e ovviamente la situazione era ben diversa e assai più grave. Per gli studenti le prove iniziano mercoledì 17, ma già oggi, lunedì 15, le commissioni iniziano i lavori con la riunione plenaria. L'intera procedura coinvolge circa 470.000 studenti, poco meno di 230.000 nei licei, 145.000 circa nei tecnici, 95.000 nei professionali. Quasi 4.000 sono gli studenti dei licei a indirizzo sportivo, 26.000 quelli del classico, quasi 70.000 quelli dello scientifico tradizionale. In tutte le scuole i dirigenti scolastici sono al lavoro già da molti giorni per garantire che gli esami si svolgano nella massima sicurezza possibile. A sostegno delle scuole il decreto rilancio ha stanziato una somma di quasi 40 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti per la pulizia. In ogni caso, tutti coloro che entreranno negli edifici scolastici nei giorni degli esami dovranno autodichiarare il proprio stato di salute, anche se non dovranno sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. In alcuni casi sono intervenute anche le regioni, come è accaduto in Campania, dove i commissari d'esame hanno avuto la possibilità di sottoporsi ad uno screening per rilevare l'eventuale positività al virus. Il 60% si è sottoposto volontariamente ai controlli, nessuno è risultato positivo. Quindi, almeno in Campania, si può stare tranquilli. Come è ormai noto, le commissioni, 13 mila in tutta Italia per un totale di circa 100 mila commissari al lavoro, sono composte quest'anno solamente da docenti interni, mentre esterno è il presidente, in genere un dirigente scolastico di una scuola della stessa regione. In diverse province però ci sono state molte difficoltà a designare i presidenti, tanto che in alcuni casi sono stati incaricati persino docenti universitari. Nella giornata del 15 giugno sapremo se tutte le commissioni sono correttamente formate o se all'ultimo momento sarà necessario sostituire qualche componente. La commissione procederà ad estrarre la classe e la lettera dell'alfabeto da cui dare avvio agli esami. I colloqui saranno non più di 5 per giornata e avranno una durata più lunga del solito. La prova potrà essere valutata con un massimo di 40 punti che si sommeranno ai crediti dell'ultimo triennio. Per superare l'esame al quale sono stati ammessi tutti gli studenti bisognerà però arrivare almeno a 60 punti, quindi con un credito ridotto si potrebbe anche correre il rischio di non farcela. Non è detto dunque che la promozione sia garantita per tutti. Promozione che quest'anno non potrà però essere festeggiata con baci e abbracci come avveniva in passato. Su questo argomento noi continueremo a tenervi informati perché gli esami di Stato proseguiranno fino alla fine del mese, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, le vostre esperienze e noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.